Ed ora insieme alla Spicola, la fondazione del GOOOOO! Il nostro mister, Nibon! Lui! Con il 2 da 32, Nibon! Lui! Con il 2 da 32, Ber! Giù! Con il numero 4, Alessandro! Buongiorno! Con il numero 13, il capitano Riccardo! La Filippe! Con il numero 19, Braul! E' la nuova! Con il numero 61, a piedi! La Filippe! Con il numero 8, Nibon! Lui! Lui! Con il numero 20, la 21! Lui! 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 Come il numero 23! con il numero 1 Luca Giamello, con il numero 22 Matteo Prezzo, con il numero 7 Jan Karamo, con il numero 9 Tony Sarabria, con il numero 11 Pietro Perlietti, con il numero 15 Saba Sasloff, con il numero 16 Nicola Nasic, con il numero 28 Saba Ricci, con il numero 66 Fina Ginetis, con il numero 77 Carlo Lennietti, con il numero 84 Jacopo Antoni, con il numero 93 Brandon Sobbi.